Benvenuti! Oggi ho un prodottino per voi, un veloce video, un veloce unboxing, ma ci tenevo tanto a provare questo prodotto e finalmente ce l'ho tra le mani e sono molto emozionato, devo dire. È uno dei miei prodotti preferiti di Apple e non esiste in Italia, che è la cosa più divertente. È legato alla musica, ma non sono le Airpods Max, nemmeno Airpods normali. Avete già capito di cosa sto parlando? Sto parlando dell'HomePod Mini. Ebbene, devo dire che sono piuttosto emozionato, nel senso che non sono mai stato un grande fan di Cuffi Over Rear, come sapete, mentre ascolto tantissimo in casa la musica e da quando ho l'HomePod sfrutto anche Apple Music, perché se ascolto Spotify sull'HomePod e faccio un veloce confronto con Apple Music, si nota veramente tanto la differenza qualitativa tra i due servizi. È veramente impressionante. E quindi sfrutto Apple Music sull'HomePod e mi son detto, ora che è uscito l'HomePod Mini, me ne metto un altro in casa così da avere, perché poi i due si collegano, così da avere un audio ancora migliore. E anche lui dovrebbe suonare in maniera incredibile. Designed by Apple in California. Ed eccoci qua. Sì, l'ho preso bianco, perché l'altro HomePod ce l'ho nero. All'interno della scatola, oltre all'HomePod, troviamo... niente. Un po' di manualistica. Uh, un Apple sticker. Oh, questo è oro! È un power brick. Tra l'altro USB-C è poi presa. Questa è la versione... Non so perché c'è un power... Forse è la versione francese. L'ho preso da eBay e non so esattamente da che parte del mondo arrivi, ma evidentemente è da un punto del mondo dove hanno la nostra stessa presa. Mentre qua abbiamo l'HomePod, togliamo... uh, loghino Apple sul fondo e poi il nostro cavo USB-C, però in corda. Sarebbe fighissimo se Apple vendesse cavi in corda anche normalmente sul sito per iPhone, per iPad, eccetera. Sarebbe molto interessante. Ed ecco qua il prodotto in tutto il suo splendido... wow, è veramente super super leggero. L'altro HomePod, quando l'ho scartato la prima volta, era veramente pesante e mi aveva fatto impressione questa cosa. Questa sarà la sua posizione. Adesso non so esattamente in che punto. Qui abbiamo un po' troppa roba. Fatemelo connettere alla corrente. Aha! Uh! È minuscolo, ma ha già fatto un suono incredibile. Ho fatto la configurazione, lingua inglese, perché l'italiano non c'è ancora, ma tutta la configurazione è già in italiano. Quindi, secondo me, potrebbe essere che stia per arrivare anche da noi. Staremo a vedere. Questo potrebbe essere un segnale, visto che tutto quanto è in italiano. Farà poi la configurazione per capire come gestire al meglio il suono nel punto in cui si trova, bla bla bla. Se io ora dico... Siri, play something. Ok, here's a station just for you. Queen. Per essere così piccolo è pazzesco. Voglio una batteria. Apple, come al solito, hai fatto un ottimo lavoro. Ora devo capire come connetterli. Nel senso che qua ho il primissimo HomePod, il classicone, quello più grosso. Ora, dall'app casa, in teoria, dovrei... Ok, ci sono tutti e due. Ok, sono momentaneamente riuscito a connetterne due insieme, cioè il mini e l'HomePod normale, anche se in pratica non si può creare un'unione tra i due, tecnicamente. Sto facendo una fatica a capire come fare, assurda. Così me lo fa fare, ma dall'app non me li fa impostare. Adesso cerco di capire ancora. Sono molto confuso, perché se io vado nella... sono al momento selezionati come separati. Però io ho un'idea. Adesso mi studio un attimo tutta la questione e poi vi faccio sapere. Ok, sono riuscito finalmente a collegarli, a farli funzionare insieme. In realtà alla fine è stato piuttosto semplice e veloce, anche se poco intuitivo. Credo che potrebbe essere, per via del fatto che in Italia non è ancora disponibile, quindi magari l'app non è ottimizzata per fare questa cosa. Perché comunque tutto tradotto in italiano dall'app. E riconosce l'onpod e te lo fa installare in... Però poi lui, ovviamente tutti gli onpod sono solamente in lingua inglese, quindi gli devi parlare in inglese. Non lo so, c'è qualcosa che non mi quadra. È tutto un po' macchinoso, ma potrebbe, ripeto, essere per il fatto che l'iPhone è in italiano, tutto il mio sistema è in italiano, loro sono inglesi, quindi non parlano bene. Di sicuro la cosa certa è che puoi fare il pairing stereo, quello ufficiale che ti racconta sul sito, solamente con due onpod dello stesso tipo. Non un piccolo e un grande. Questo perché sono due livelli di potenza differenti, quindi chiaramente è un po' strana la questione. Per connetterli come ho fatto, ne ho fatto partire uno, chiedendoglielo a voce, e poi dall'iPhone ho semplicemente tappato in basso su AirDrop e selezionato anche il secondo onpod. E in quel momento lui ha cominciato a riprodurli insieme entrambi, ovviamente sono tutti locati in questa sala, quindi nel living. Quindi situati nella stessa stanza e tramite il telefono su AirDrop li selezioni tutti e due, partono tutti e due e da lì in poi li continua a riprodurre entrambi. Per regolare i volumi li puoi regolare direttamente dal telefono, singolarmente, oppure andando sull'onpod stesso. Se chiedi tu di regolare il volume, li regola allo stesso livello, ma ovviamente il piccolo sarà un pochino più basso di suono e quindi se sei lontano non lo senti, che è il motivo per cui la funzione stereo non può funzionare. Però sì che dire, mi piacciono veramente un sacco, l'onpod mini è veramente una figata, lo trovate su ebay ad un buon prezzo, io l'ho pagato 110, quindi insomma se vi interessa lo trovate online, non è ancora disponibile ma secondo me lo sarà il prossimo anno magari. Fatemi sapere che ne pensate se ne avete mai provato uno e vi assicuro che l'audio di questi cosetti vi stupirà tantissimo, sia l'onpod normale che il mini. Spero vi abbia fatto piacere questo video durante la settimana, ci rivediamo molto presto con nuovi contenuti sempre qua su AirFarmstube. Grazie. Grazie.